Spedisci 5 tappi di Campari Soda e partecipa ogni mese all'estrazione di una delle 5 nuove bellissime Porsche Boxster. Per il regolamento chiama il numero che trovi sotto i tappi e sotto i tappi puoi vincere subito 1000 Philips Car Stereo. Per il regolamento chiama il numero che trovi sotto i tappi e sotto i tappi.